Siamo qui a Matera con le classi terza B e terza C dell'Istituto di Dominio Nicolardi per realizzare la fiaba Gatto con gli stivali per il concorso Corti di Licunti 2017. Lorenzo, hai mai recitato un set cinematografico? No, mai in vernatura. E che personaggio hai interpretato? Ho interpretato la parte del dignitario, del re. Ti è piaciuto? Sì, abbastanza. E cosa non dimenticherà di questa esperienza? Diciamo un po' tutto, è stato tutto bello, mi piace questo. Tu che personaggio hai interpretato? Io sono stato il re. E come ti sei sentito? Importante, è il re. Ti è piaciuto recitare qui a Matera? Assolutamente, sì dai, è un bel posto. Tu che hai recitato? Ho interpretato il ruolo di Cagliuso. È stato bello? Sì, sì, assolutamente. E ti è piaciuto recitare qua? Eh sì, certo, è un bel posto. E cosa non dimenticherai? Il vestito. Chi hai interpretato tu? La gatta. E come ti sei sentita? Felina. Cosa ne pensi dell'esperienza? È stata una bella esperienza perché per la prima volta ho recitato. Ti piacerebbe ripetere questa esperienza? Certo. E quali difficoltà hai dovuto affrontare? E vabbè che per essere dell'espressività. Secondo lei i ruoli che sono stati scelti per interpretare appunto i personaggi sono stati idonei? Ma io direi assolutamente sì, anche perché sono stati stessi ragazzi a sceglierli dopo una opportuna votazione e sempre come accade, i ragazzi fanno sempre la cosa giusta. Quindi i personaggi giusti con i ragazzi giusti. Perché avete scelto di ambientare questa storia proprio a Matera? Allora, non è una scelta mia, è una scelta del regista, scelta azzeccatissima perché Matera è un'ottima location. Si presta al periodo storico, si presta al tipo di storia che abbiamo raccontato, quindi quello di Cagliuso, del Gatto con gli stivali. Molto suggestiva, naturale, siamo stati tra le rocce, siamo stati in mezzo alle rupi, all'interno di questo bellissimo cortile dove si è realizzata l'ultima scena. Quindi molto azzeccata. Bravo il regista. All'interno dei vari progetti che sto facendo in varie scuole, lei con la nostra scuola si è trovato bene? Assolutamente sì, siete stati dei ragazzi formidabili, attenti, avete interpretato per bene tutte le scene, quindi quando è così per noi c'è sempre una facilità nella realizzazione. E quindi io vi faccio i migliori complimenti perché siete stati entusiasti dall'inizio fino alla fine. E continuate così, complimenti. Grazie a tutti.